L'aureo onori scausa in Ingegneria Meccanica a Masao Furosawa. Mercoledì all'Università degli Studi di Trieste, il magnifico rettore Fermegna ha consegnato l'onori scausa proprio a uno degli uomini chiave della Yamaha, peraltro anche grande amico di Valentino Rossi, che lo portò proprio grazie alle amicizie a guidare per anni proprio la Yamaha. Conosciamo allora Masao Furosawa, classe 1951, nato a Kukura, oggi un quartiere di Katayushu, in una delle terre intellettuali, commercianti e samurai. Ha armato la scienza, la storia e le karate, diventando poi maestro. Entrò nella Yamaha nel 1974 e coniugò nei sistemi di lavoro aziendali la cultura dei samurai, onore, rispetto, dedizione, sacrificio e compatibilità. Si occupò subito di metodologie numeriche e sperimentali nell'ambito delle vibrazioni, sviluppando un codice di analisi modale originale che venne poi utilizzato anche in altre aziende. Nel 1980 sviluppò il montaggio ortogonale delle motore da moto adottato per la prima volta sulla RD350LC, mentre nel 1988 fu responsabile del dipartimento RD. Fra le 1992 e il 1998 è stato responsabile della progettazione delle motoslitte, portando la Yamaha ad essere una posizione di leadership tecnologica attraverso una serie di brevetti a suo nome. Nel 2003 divenne poi responsabile della divisione tecnologia di Yamaha Racing, un reparto del progetto RZV-M1 MotoGP e un anno dopo la Yamaha conquistò il titolo mondiale con Valentino Rossi. Da quel progetto nacque una nuova generazione di M1 che la Yamaha utilizza ancora oggi. Dal 2005 al 2012 fu Rosawa, assunse la carica di Executive Officer Yamaha Motor della compagnia. Dopo la pensione, raggiunta nel 2010, ha fondato una società di consulenza e prosegue gli studi nel campo delle vibrazioni e della meccanica.